Benvenuti alla Night Session di giovedì 22 settembre. Sono le 23 e 11 e anche se ho una marea di cose da raccontarvi, cercherò di essere il più rapido possibile perché vorrei andare a dormire e se no ogni intervento diventa un webinar. Cosa succede? Succede che dopo che ci siamo fatti una bella scalpata short qui, quando abbiamo visto che poteva essersi chiuso dopo la 24esima barra di inverso, massimo, minimo, massimo, vicino alla zona della media mobile a 200 periodi, il nostro primo T-3 inverso, a quel punto, preso lo short, dai massimi sostanzialmente, siamo arrivati fino alla prima candela verde che ci ha dato il segnale di chiudiamo tutto perché se no potremmo avere delle opportunità. Questo perché comunque il target era la media mobile a 50 periodi. Quindi il discorso che però continuo a vedere che certe persone non riescono proprio a capire è uno, ok? Non ho mai detto, andatevi a ascoltare i video, che le notizie non abbiano un impatto sui mercati. Ho detto che hanno un impatto sui mercati nel brevissimo. Ma guardate, siamo partiti da questa candela qua delle 18,30? Eravamo a questo livello qua? Siamo a questo livello qua. Uguale, eh? Ok? Nonostante finta rialzo della Fed, ridiscesa, quindi speculazione degli HFT e poi risalita. Siamo ritornati allo stesso identico posto nonostante sembrasse una tragedia che erano già stati azzeccati i tassi a 0,75, previsti da sempre, confermati dalle scelte della Fed e, oh mio Dio, sì, sono più hawkish, sì, ma si sapeva già. E quindi teoricamente la notizia doveva già essere incorporata e quindi questa roba qua, ribadisco, in me la speculazione, peraltro, come? Preferisco sottolineare ancora una volta, questa cosa cambia a livello ciclico qualche cosa? No, perché la violazione di questo minimo da cui è partito il mensile, New T più 2, era già stata fatta prima della Fed il 19,9, non il 21,9 due giorni dopo alle ore 20 italiane. Per cui, se già avevamo avuto la condizione necessaria e sufficiente per avere un mensile ribassista, questa cosa qua non cambia di una virgola le cose. Zero. Non le cambia nel breve, perché siamo ritornati allo stesso livello, non lo cambia nel medio e nel lungo. Ok? Spero di essere stato ancora più chiaro delle altre volte, anche se vedo che c'è un grado di comprensione della materia che è scarso, proprio molto scarso. Alcuni davvero non riescono neanche a comprendere il senso di un semplice titolo. Mi spiace, questo canale probabilmente non è fatto per voi, è troppo tecnico. Ok? Quindi, tornate dagli youtuber che vi dicevano andiamo a 30.000, andiamo a 50.000, Natale, andiamo a 100.000 e continuate lì, intanto a noi la polemica non interessa. Eccoci qua. Prima cosa su cui mettere l'accento. Da questo minimo, incluso nella candela verde, a questo minimo, incluso nella candela rossa, abbiamo 6 barre, quindi durata minima per la chiusura di un secondo t settimanale, ma anche di tutto il t più 1. Disegniamolo rapidamente per chi arriva da zero su questo canale. Primo ciclo t settimanale, secondo ciclo t settimanale, con condizione necessaria e sufficiente per chiudere il vincolo, come già detto, sul mensile, che si vincolerà a continuare ad aggiornare i minimi di volta in volta. Ok? Fino alla sua durata minima, adesso siamo a 16 giorni, ovvero fino a 24 giorni, per altri 8 giorni potrebbe fare anche solo un 3 tempi, proverà a rimbalzare, rimbalzo del gatto morto e discesa. Ok? Questa è la prima cosa da far notare. Quindi, vedendo che ci poteva essere questo tipo di discorso, togliamo questa roba, ovvero condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un b settimanale, siamo andati a vedere a livello ciclico se si poteva scindere in 6 t meno 3, perché noi arriviamo qui al quinto t meno 3, non al sesto. Il sesto... Abbiamo provato varie centrature, ce n'è soltanto una con il quinto t meno 3 che parte da qui e che è oscena, non rispetta particolarmente le regole, non è bella, ok? Per cui sì, è una possibilità di cui dobbiamo assolutamente tenere conto, ma, in questo momento, ci sono poche cose, ci sono varie cose certe. Potenzialmente chiuso con un ottavo t meno 3 inverso ribassista, ribassista di inverso uguale a rialzista, il nostro settimanale precedente potenziale partenza di un nuovo settimanale inverso. Anche se, ribadisco, qui, da questo massimo, ci sono tutte le condizioni per la partenza di un secondo t meno 3 inverso, già vincolato però rialzo. È arrivato a quanto? E purtroppo a poche barre, siamo alla dodicesima su minimo 24, per cui partenza eventuale, anzi, partenza di secondo t meno 4 inverso è, se rispetteremo questo vincolo, anche se qui, attenzione, dipenderà dalla discesa che faremo, perché se andremo sotto questo minimo cambieranno un attimo le cose, ma qui saremo ancora in 35esima barra su questo massimo, potremo arrivare ancora fino a 44 eventualmente come durata di questo t meno 3 inverso, quindi potremo arrivare alle 4 e un quarto di questa mattina. Ribadisco che da qui ci sono tutte e due le condizioni per la partenza di un secondo t meno 3 inverso che invece vorrebbe andare sopra a questo massimo, sopra i 19.500 dollari. Ecco perché scatta immediatamente l'allarme, ci si ferma dal continuare a valutare di shortare i top e si prende a ragionare. Questo fanno gli analisti quantitativi, questo fanno i trader, questo stiamo facendo nel gruppo premium a voce alta, in modo che tutte le persone capiscano come si ragiona per arrivare a determinati risultati. Da qui è stato violato, partendo da questo minimo, uno swing per far partire un nuovo ciclo settimanale? No, quindi non abbiamo evidenza della partenza di un ciclo settimanale. Questo può essere un sesso t meno 3 che spara su, che peraltro giusto per raggiungere difficoltà difficoltà, qui ha fatto un minimo in ventitresima barra, più minimo che però appartiene come candela a un altro movimento, il 23 barra a volte molto raramente si verifica come durata del t-3, quindi è successo, non è successo? Vedremo. E se vogliamo rimanere rigidi alle regole, e qui manca ancora una discesa, e abbiamo tempo anche in questo caso per arrivare fino a 44 barre. Quindi si può continuare a scendere, andare dove si vuole, target classico, media mobile, barra, basterebbe serenamente anche il livello superiore dell'accumo per avere la condizione necessaria e sufficiente per chiudere qui il sesto t-3, non qui a 23 barre. Altra cosa che vi faccio notare, sempre l'ultima delle cose da notare, qui abbiamo, no, qui è alto, qui è praticamente, no, non torna, la ciliegina non c'è. Per cui, che cosa stiamo facendo adesso? Nonostante il teorico vincolo a rialzo, aspettiamo. Vogliamo prima vedere come chiude il sesto t-3, non a 23 candele ma oltre. Vogliamo vedere se si arriva qui, vogliamo vedere se si rimbalza per far partire il settimo t-3 e poi che cosa succede? Perché in questo momento ricordiamoci che la cosa più importante è che noi siamo sul mensile ribassista. È vero che se qui su questo minimo avesse chiuso un t più 1, una forza per un rimbalzo ce l'avremmo. Quindi sarebbe giustificata il vincolo sul secondo t-3 inverso. Perché dovremmo spingere per far partire un t più 1 nuovo, un b settimanale nuovo ed andare sopra questo massimo a 19.981 dollari. Se non ci andiamo e se si va giù, ecco, avremo una chiusura più decente di t più 1 e anche più facilmente scomponibile a livello di t-3 che ribadisco, uno può farle anche a posteriori tutte le centrature che vuole e dividere in tre cicli questo periodo. Tre sottocicli questo periodo. Però mettere qui un quinto t-3 che chiude qui è talmente, anzi che chiude qui, è talmente brutto come ciclo graficamente che a priori non si può capire che cosa che è stato chiuso qui. Cioè non funziona. Questa parte qua è ancora in revisione. E dato che tutte le volte che ragioniamo sul da farsi non ci muoviamo, dato che c'è un vincolo teoricamente a far salire i prezzi, dato che qui potrebbe aver chiuso un b settimanale, ma siamo sul mensile ribassista, preferiamo non andare long, ok? E vedere che cosa succede. perché come vedete basta sempre un HFT a cambiare tantissime cose. Se da qui la prossima candela fa così, la prendiamo, la ficchiamo qui, ecco, abbiamo la chiusura del sesto t-3, siamo in basso, fa un piccolo rimbalzino, la chiude al settimo. Ci siamo scontrati con la media mobila a 200 periodi, ok? Siamo poi andati un pochino giù. Adesso abbiamo questo supporto, come detto, piuttosto che quello dell'altra media, quella a 50 periodi. Cosa dobbiamo fare? Attendere. Attendere però ricordandoci determinate cose. Come detto, mensile ribassista, rischio di annuale inverso che sta partendo da qui, siamo a 39 giorni di discesa, 39 giorni sotto questo massimo e quindi con 39 barre siamo a un mensile che lancia perlomeno un semestrale di inverso e di inverso parte da massimi, fa minimi, torna su massimi, parte da massimi, fa minimi, torna su massimi e poi continua a provare a scendere sotto questa zona qua. Qui, peraltro, avendo già 96 giorni, 96 giorni, guardate qui che cosa abbiamo? Abbiamo un T più 4 che lancia non soltanto un T più 5 a questo punto, aggiorniamolo, ok? E' un T più 4 già che potrebbe lanciare prossimo un T più 6, ovvero un biannale punto 5 io però mi fermo a T più 5 se questo ciclo complessivo che è piccolissimo se andate a vederlo rispetto agli altri guardate cosa diventa se torniamo ad una grandezza decente di annuale inverso guardate qui non siamo neanche riusciti ad arrivare alla punta dell'annuale inverso pazzesco talmente sottile come ok da qui a oltre 313 giorni dal massimo è partito già oggi è il 22 22,9 ok è partito con un annuale con più ormai tra poco arriviamo a una lunghezza oltre l'annuale è partito che cosa di inverso è partito un triennale massimo quinquennale di inverso che non è detto che continua a fare movimenti come questi e che oltretutto nella parte finale andrà a chiudere con dei baffi per ora per ora la forma che ha questo pluriennale non ci dice che andremo a fare dei picchi per Natale ci dice altre cose e l'unica se noi avessimo qua invece di un annuale di un nuovo annuale una forza scarsissima se avessimo invece rimaniamo a 96 barre quindi all'interno del semestrale se avessimo qui un semestrale che fa da raccordo tra quali cicli dovrebbe essere posizionato mi fermo qui perché è giusto che tutti facciano le proprie riflessioni e che vadano indietro nel tempo a vedere che cosa può essere successo e a rifare tutte le centrature perché questo è il lavoro dell'analista e del trader che veramente controlla costantemente la situazione guardate quanto fa ridere il movimento che abbiamo avuto di rimbalzo previsto peraltro dal minimo del 18 di giugno fino ad adesso questa è la pendenza è nulla stiamo tornando qua siamo più vicini ai minimi che ai massimi questi erano i movimenti che facevamo parimenti in altri periodi molto differenti come ampiezza dai 68.000 ai 48.000 sono 20.000 punti dai ritorniamo alla grandezza che ci fa più capire le cose dai 17.605 ai 25.000 ci sono 8.000 punti non ce ne sono 20.000 ce ne sono meno della metà ce ne è praticamente un terzo d'accordo quindi riflettete l'unica possibilità per non rischiare di affondare in maniera brutta è appunto un raccordo ma ci sta il raccordo? attendo un riscontro nei commenti se avete fatto o se farete i calcoli perché qui si insegna a pescare non si butta il pesce sul tavolo e tutti i contenti bisogna lavorare altrimenti i risultati non arrivano buona serata a tutti